Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sul raccordo Bettolle-Perugia, svincolo di pietraia chiuso per un incidente che vede coinvolto un camion sulla rampa di accesso al chilometro 15 e 500 in direzione Perugia. Sulla statale Trebbis-Tiberina fino alle 18 del 26 ottobre, tratto e svincolo chiusi per lavori tra Val Savignone e Pieve Santo Stefano Nord, tra i chilometri 158 e 200 e 158 e 20. Per questi lavori attivano un scambio di carreggiata tra i chilometri 159 e 650 e 157 e 800 tra Canili e Pieve Santo Stefano Nord, in direzione Viterbo Terni. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!